Benvenuti e bentornati per il tuo spettatore questo nuovo video su Terraria Qui insieme a me c'è Jack14, io sono Jack46, su Terraria vedrete il mio schermo e non quello di Jack Esatto, sta zitto, è meglio Allora, e monta anche Jack Sì, quindi questa serie sarà solo una serie in multiplayer Esatto, posso accettare No, infatti ho già creato il mio personaggio, ci l'ho giocato 44 minuti ma sono andato avanti e indietro Ho solo trovato un cuore e mi sono aumentato la vita di 20 HP Ma sì, tranquillo, tanto si muore lo stesso all'inizio, se no si fa le cose velocemente Quindi, una volta le putti Comunque, questo Abbiamo già creato il mondo che è il mondo VN, come vedete da qui, creato il 28 dicembre Oggi è il 28 dicembre Cioè oggi Ok, siamo entrati tutti e due e Jack ha, come vedete, sta fermo, sta fermo Ha 4 di vita, no, 1 di vita, 2 di vita 2 di vita Ok, qui è il nostro amico Asher Ciao Asher, saluta Asher Asher, si dice che ci sia una persona che ti dirà come sopravvivere in questa terra Aspetta, sono io Grande Lo sto leggendo Sta arrivando uno slime, per chi non sapesse, gli slime sono brutte persone, eh? Come hai fatto a salire, Gekko? Il parkour Comunque, come vedete, è Natale e quindi Natale è passato, però ci sono gli slime con i fiocchi E i conini Oh, Gekko, mi sono incastrato Eppure qua devo Allora, prima di tutto, come vedete, qui non posso togliere Non puoi, perché c'è l'albero sopra Allora faccio così Faccio la messa all'alternativa Allora, prima di tutto dobbiamo proteggere Asher Intanto facciamo Tanto io ho tirato giù l'albero Tu prendi terra Io prendo Comunque, in questo gioco è Sotterraria E subito Bisogna subito prendere tutti i materiali Cioè, fare subito una casa Perché in questo gioco Non sono i mostri I zombie Tutti Tutti i vari Mob Sono Molto Io sto già anche facendo la casa Molendo Sì Guarda Sono molto Ma Non sono molto Magnanimi come in Minecraft No Ci vanno giù pesante questi qua Veramente sembra una talpa Beh, è notato Sì Meglio se stessi Allora Prendo anche un po' di terra Ok Jack Entrando in casa E' una cosa buona Così Sì Però se questo si elevasse un attimo Grazie Ok Asher Facciamo che chiuderci dentro Sto anche prendendo la pietra Guarda che bravo Sei bravo No, no Tu non uscirai Asher Non uscirai Non questo Non puoi passare Come vedete Questo è il menu Qui ci sono i nostri inventari Abbiamo 53 monetti di rame Credo di essermele Prese E dimenticate Dall'altro mondo Vabbè Ed oro Metà A Jack Aspetta Il campfire Lo facciamo Quanta vita hai? Aspetta Io ho 100 su 100 Ok allora lo facciamo dopo Faremo subito Il banco da lavoro Essenziale pure questo E il campfire Il campfire Sì perché Io continuo a scavare Perché tanto qua Ok metteremo Una torcia qui l'entrata Un'altra torcia qua Per illuminare Non è vero Perché non ho più gel Però metteremo il campfire qua Che farà Anch'esso un po' di luce Poi metteremo Sembra abbastanza Il campo Sì il campo da lavoro Certo Il campo da lavoro Cioè il zappo a vita No il banco da lavoro Che Funzionerà così Non dobbiamo cliccarci sopra Basta che andiamo qua Adesso non farà Sì ecco Vedete Mi allontano un po' E scompaiono le cose Adesso ci sono solo due Avvicinandoci C'è da tante Perché non è come Minecraft Che dobbiamo andare lì Proprio su quel preciso blocco No Basta avvicinarsi E ci darà più cose Faremo prima di tutto Una porta di legno Una porta di legno Una porta di legno Perché 89 pezzi di legno Presi dagli alberi qua sopra Che avete visto prima Boh anche io Vado a prendere un po' di legno E aprirò Perché se no Non posso farmi niente Veramente Grazie Aspetta che c'è un muschio Un lecheno Aspetta Devi ammazzarlo Senza morire tu Grazie Poi in questo qua Si possono fare anche Le armi da fuoco Eh mica Questo qua Posso prenderlo io Adesso prendo un blocco Per farlo vedere E' il tin Questo qua è il tin Prendi tu il resto Quello lì è il tin Io anche sono Anche io sono Vedere anche la mini mappa In alto a destra Come potete vedere da qua Questa qua Ma è normale Questa qua Ti fa crashare il gioco E quella che adesso Non si vede bene Però di sottofondo Togliamola subito Perché se no Mi fa esplodere tutto Togli la mappa Ok Metto un po' di terra Perché se no qui Poi cadiamo Non ammazzare conigli Perché è una morte brutta Quella di conigli C'è Babbo Natale Ma è un banno Lo so È un coniglio È però è brutto Si dice coniglio No 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 Perché questo attacca solo Non lo so Io giuro che non lo so Ho avuto Ho visto che morte brutta Sì lo so Bene Hai del gel Che vuole Spetta forse Gel Apri il menu Un inventario Come lo vuoi chiamare Sì Ho aperto Aspetta vado Giacomo apri E vai su No no Va bene Con quello lì Le torce le puoi craftare Anche senza andare vicino Al banco di lavoro Aspetta come si fa Torce torce Tre torce Chi sopra è Fiacola Fiaccole Fiacola Ne ho fatto di fiaccole Dove sono le fiaccole Sono lì Dove sono le fiaccole Ok Ok O le fiaccole Hai di fiaccole adesso Vieni qua Vieni qua Ancora fiaccole Ho sei fiaccole Prima farò Delle Anche da qua funziona Mi sembra di no No ok No Perché mi hai chiuso Porta in faccia Scusami Dove volevo mettere una fiaccia Aspetta ho trovato una grotta Bene Le grotte sono cose buone Innanzitutto farò Ok adesso vado sotto Per i nostri Perché noi siamo bravi No no Non voglio essere gruppo verde Vado sotto Vado sotto Non è di un gruppo Si possono fare i gruppi Cosa che non sapevo Ok Ci ho visto volare Comunque Qui posso fare Aspetta Posso fare soprattutto Le armature Qui si può fare L'armatura di legno Finalmente Ti ho visto che non si può fare in minecraft L'armatura di legno Però la spada di legno Cioè io posso rompere questa Unfora che c'è qui Aspetta Faccio Vabbè Ti vedo Tu apri 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 Cos'hai trovato? 63 copper 63 copper Con quella lì Ma va Odio la violenza Dite no alla violenza sui conigli Sia alla violenza sui islam C'è alcuna cassa Aspetta Cassa 4 Innanzitutto Innanzitutto faccio La armatura Per tutte e due Grazie Troppo gentile Guarda che caverna Io rompo l'anfora E rompi Così Consumabile Materiale Ok Oh ciao C'è Ecco Innanzitutto dobbiamo fare una scala Quante torce hai? Sì la faccio io La faccio io Torce Non ne hai più Nessuno Aspetta Te la faccio io la scala No ecco Te la faccio io Questa qua è la notte Aspetta Spiano un attimo il territorio E poi faccio la scala Ok Ok Aspetta che io rompo tutto Ok Questa qua è la notte E durante la notte Non è consigliabile Andare in giro Innanzitutto Mi metto la Le armature Anzi l'armatura Almeno l'hai data L'armatura Perché non l'ho ancora fatta Perché non mi manca Andiamo da battere anche Altri due o tre alberi Vedete ragazzi Giacomo mi abbandona sempre Solo perché la sua serie No 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 Ma Tu sto dire che No Allora Slime No 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 Non la violenza sui conigli No la violenza sui conigli Ok Due di gel Posso finalmente farmi delle torce Allora da qui c'è tipo il pavimento No Proprio markets Allora io faccio Metto un blocco qui Un blocco qui Stelle cadenti Che possiamo anche prendere No cosa sta facendo questo Ma è impazzito No C'è entrato un mostro in casa Giacomo Giacomo ritorna Che cos'è? Un zombie? E' un muschio Un muschio Un licheno No il nostro amico è uscito Si è quasi ammazzato Uno slime No il nostro amico è molto potente Ma è anche un molto shame Il nostro amico Cosa fai? Cosa esci di casa? Perché hai lasciato la porta aperta? Io ho Ok però sta finire la porta e richiuderla Ok l'ho ucciso C'è ecco Hai visto che bella scala che sto facendo? Allora Leidore Ok Facciamo Ti ho fatto questo Ti faccio Prima di tutto devo Si possono fare già del Minerali No Bisogna ancora scavare Perché Bisogna trovare del ferro Si però sta scala Per poi Perché stai continuando ad uscire E ad entrare di casa? Ah come si chiama già? Asher No gli occhi Gli occhi gli zombie No lo sta Mamma mia la botta Ti prendo io zombie Già che ho fatto la scala Io sto ammazzando uno zombie Sto morendo io Adesso arrivo anch'io Cos'è questa luce? Eh tira le frecce però Tira le Attento che arriva sopra Aia Mamma mia Faccia a voi fratelli Zombie ho ucciso uno zombie E so forte No Giacomo Gigetto è stato assassinato Giacomo è stato ucciso Giacomo è stato ucciso Meno male che c'è tipo la keep inventory Inventory Zombie fammi passare Oh mamma Fatemi riprendere Mie monete Oh cos'è sto casino Quei E' morto Ashley Ashley No no Ashley è quella di anti-down Giacomo Vabbè Ok ho ucciso Ok ho ucciso Un tizio Ho ucciso lo zombie Sono morto Ho capito È stato brutalmente Sezionato Allora Tu entri in casa Allora Se questo qua entra in casa Perfetto Sei entrato in casa Sei in casa Torna in casa Torna in casa Veloce 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 Entri in casa Ok ho chiuso Oh No tu non esci Tu non esci Stai in casa tu Asher Tu stai in casa Bene Veramente ho C'è sta gente Ho rotto una torcia Adesso la rifaccio L'ho presa io però Aspetta 9 torce Ok bene Qua Hai visto che bella scala Che ho fatto Ho fatto la scala Giacomo posso dire Che sembra molto pericoloso Così No No Asher Tu non esci Asher tu non esci È bella Aspetta Chi sta Intanto io Ma sto qua nella vita Oltre a fare niente Non lo so Ma sto qua nella vita Oltre a fare niente Fa qualcos'altro No ti sta lì vicino Però ti la consigli Però è buono È buono perché ti la consigli Aspetta Devo fare tipo Un tunnel Che va dall'altra parte Perché se no Non si riesce ad arrivare All'altro punto Al punto di spawn Perché ho fatto la scala Che ha tagliato a metà Bruttalmente tutto Quindi adesso Quindi adesso ne devo fare Un'altra Tac Ok Aspetta sto facendo Il tunnel Tac Allora Oh Ah no Pensavo fosse Ash Io quello lì Eh Posso scavarlo io Perché se no Non posso fare poi I lingotti Per poi fare le ceste Ma te li posso dare Tipo le cose io Eh no perché non abbiamo Ancora fatto la cesta Ah la massima La faccio io Ne ho Bisogna vedere Perché devo fare i lingotti Come si fanno a fare i lingotti Fammi il tutorial Gekko Io non sono capace ragazzi Aspetta devo vedere Piattaforma di lei Allora posso fare la Puoi fare la fornace Come si fa la fornace Sempre esco Crafting window Forno Sì posso farlo Mettilo a fianco la Alla crafting Forno L'ho fatto Forno L'ho fatto Adesso lo mettiamo qua Allora un attimo Eccolo il forno Dove lo metto qui Va bene Fatto Non l'hai messo Ok Ok l'ho messo Adesso Ok posso farlo Lead bar Posso fare anche un team bar Se vuoi Team bar Faccio tutti i team bar che ho Sì Ok posso fare la cassa Ok mitico Allora io scavo La cassa No che cosa hai fatto La facciamo Qua sotto Qua sotto Qua sotto Qua sotto dove hai scavato tu Continuiamo a scavare Facciamo una stanza Sì Comunque qua dietro L'episodio è tutto Magari è stato un po' noiosetto Decidete voi Vabbè è la prima volta che portiamo il gioco Jack vi saluta Non so che cosa stiamo giocando Se di abilità Certo a tutti ragazzi Esatto Non ho idea di cosa stia facendo Però mi piace Questo episodio termina qui Vi auguro Buone feste Visto che non sono ancora finite Ma dipende quando esce sto video Comunque spero che abbiate passato Buone feste O se state ancora passando Buone feste Noi ci vediamo col prossimo video Un saluto spaziale da Gio46 Ciao Ciao